La sicurezza sul lavoro si impara a scuola, lo stabilisce il protocollo firmato a Firenze dagli Assessorati all'Istruzione al Diritto alla Salute della Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale, dall'Associazione Nazionale dei Mutilati e Invalidi del Lavoro, ANMIL. L'accordo, il primo nel suo genere in Italia, prevede la predisposizione di specifici progetti didattici nelle scuole primarie e secondarie della Toscana per trasmettere ai giovani la cultura della sicurezza contro infortuni e morti sul lavoro. Perché è importante sicuramente che i ragazzi acquisiscano consapevolezza del rischio, acquisistano proprio come competenza la capacità di valutare il rischio, quindi si formino in una cultura della sicurezza che sicuramente è utile e indispensabile per i lavoratori, quindi nel mondo del lavoro, ma che è anche molto importante nella vita quotidiana. Regione e Ufficio Scolastico si impegnano a promuovere azioni congiunte anche per la formazione degli insegnanti, in modo da fornire loro metodi e strumenti ideali per trasferire la materia ai ragazzi, oltre a materiali didattici adeguati alle prove invalsi e ai diversi tipi di scuola. Certamente gli insegnanti affrontano il problema con una mentalità che è classica di un insegnante, invece con tutto il mondo con cui oggi noi ci dobbiamo confrontare, in particolarmente anche con l'organizzazione delle imprese e delle aziende, è necessario avere veramente una testimonianza importante di quello che possono essere i problemi della sicurezza. I progetti didattici prevedono anche le testimonianze dirette degli esponenti dell'ANMIL, che racconteranno le loro storie. Alle testimonianze di infortunio il protocollo riserve almeno due ore di lezione. Questo protocollo di intesa deve soprattutto servire per far arrivare all'utente finale le informazioni che l'utente finale si merita. In questo caso gli scolari meritano comunque di essere a conoscenza di quello che comporta entrare nel mondo del lavoro. Devono anche sapere i rischi che corrono entrando nel mondo del lavoro. Il protocollo prevede anche la possibilità di percorsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro da inserire nelle attività di orientamento al lavoro svolte nell'ambito della rete regionale dei centri per l'impiego.